Ciao a tutti! 5-6 settembre 2020 ci sarà un grande festival delle arti qui a Monzambano dove io otterrò un workshop di fotografia. Il titolo è I volti della città. In realtà si tratterà di ritratto e paesaggio da scoprire a Monzambano. Monzambano, io dico, è un po' l'ombelico del mondo per vari motivi. È una grande città ma in realtà non lo è. È un paesino medioavale con un sacco di scorci caratteristici e un sacco di bella gente che vive qui per cui vi aspetto il 5-6 settembre a partecipare a questo workshop che scoprirete un mondo nuovo.